A Potenza tappa nel capoluogo di Basilicata in 3D, in piazza Mario Pagano, street artist italiani daranno vita a due giorni di performance artistiche. L'evento si replica domani. A Baglio, da oggi e fino al 26 luglio, in scena il Play Green Festival, 4 giorni di musica, natura e creatività. A Tito, alle 20.30 al Chiostro del Convento, nell'ambito della rassegna Teatri di Pietra, concerto per Odisseo. A Brienza, alle 20.30 in piazza Conforti, ricordando Pierangelo Bertoli con la voce del figlio Alberto, che presenta il suo libro Come un uomo, a seguire Bertoli e Giulari in concerto. A Rotondella, alle 21.00 al Lido Splash, al Via il primo festival internazionale di cortometraggi sviaggiati. A Matera, alle ore 21.00 alla corte dell'ex ospedale San Rocco, il Barbiere di Siviglia, selezione dell'opera in forma semiscenica. A Nova Siri, alle 21.30 sul lungomare, spazio al cabaret con il comico Giovanni Caccioppo. A Maratea, alle 21.30 al Parco Tarantini, Giuseppe Pambieri e Barbara Bovoli portano in scena Antigone.